Perché è importante sapere cos'è un bilancio consuntivo condominiale quando acquisti casa? Ciao, un saluto da Andrea Ruocco. Il bilancio consuntivo è una sorta di estratto conto dei costi sostenuti dal condominio dell'anno precedente. Quali sono questi costi? L'assicurazione del condominio, lo stipendio dell'amministratore, spese della pulizia delle scale, comprese le riparazioni per eventuali danni ai singoli appartamenti. Perché è importante dare un'occhiata al bilancio consuntivo soprattutto quando acquisti casa? 1. Puoi verificare se il condominio è a debito o a credito e fare le tue valutazioni. 2. Intuire l'atmosfera condominiale dove fa parte l'abitazione da comprare. Timi presente che il venditore non è tenuto a mostrarti il bilancio consuntivo, ma dovrà solo dimostrarti al momento del passaggio di proprietà che al suo appartamento non ci sono debiti nei confruttori del condominio. Quindi dovrai farti autorizzare a prenderci un'occhiata. Per evitare di pagare i debiti per Gressi e il venditore, vi suggerisco di iscriviti al canale, di attivare gli avvisi e non perditi il prossimo video. Scrivimi se hai domande oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!